L'acquisizione di Whatsapp da parte di Facebook è stata solo la conferma che il mondo della messaggistica istantanea è ancora un settore molto importante, nel quale le aziende vogliono puntare e investire. Aumenta sempre di più il numero di Big Dell Tech che hanno deciso di sviluppare e presentare la propria piattaforma di messaggistica istantanea e tra questi, da qualche ora, c'è anche l'ex fondatore di Skype. Skype che, come ormai tutti sappiamo, da tempo è diventata di proprietà di Microsoft ma che è stata fondata dal 2007 dallo stesso sviluppatore che da alcune ore ha rilasciato Wire una nuova applicazione per la messaggistica istantanea multipiattaforma disponibile per macOS, per Android e per iOS che se in un certo senso è ben distante da Skype e dal concerto stesso di Skype dall'altro in realtà ne prende alcune caratteristiche una caratteristica interessante comunque di questa applicazione è senza dubbio l'interfaccia grafica pulita, molto ordinata, mai vista in un'applicazione del genere e poi la possibilità di mandare messaggi telefonate con allegati anche tramite piattaforma YouTube e SoundCloud sia tramite dispositivi mobili che tramite computer desktop ma questa è una possibilità che già diverse applicazioni hanno da tanto tempo insomma ragazzi questa è Wire in questo video vi faremo vedere come funziona e quali sono le sue caratteristiche principali io sono Dario Caliendo e vi mando un abbraccio L'applicazione è disponibile gratuitamente in Play Store, App Store e Mac App Store ancora nessuna informazione per quanto riguarda la versione per Windows ma siamo convinti che arriverà a brevissimo avviata per la prima volta dopo il download l'applicazione si presenta con questa interfaccia un'interfaccia che già come si può vedere anticipatamente è molto molto semplice ovviamente nel caso in cui non abbiate mai utilizzato l'applicazione è necessario registrarsi e per farla è necessario inserire la propria email il proprio nome e cognome e una password quindi è un'applicazione di messaggistica istantanea che va ad account e non a numero di telefono ecco perché poi alla fine si può utilizzare su diverse piattaforme contemporaneamente io ovviamente sono già registrato quindi andiamo avanti nell'applicazione ed eccoci qua questa è la schermata iniziale la schermata iniziale che si gestisce con degli swipe e una volta registrato il proprio profilo e concessi tutti i permessi all'applicazione è possibile utilizzarla questa è praticamente la schermata iniziale nella quale si vedono i contatti che sono già nell'applicazione ovviamente adesso ne ho veramente pochissimi perché l'applicazione è nuova ma andiamo avanti e vediamo com'è la chat la gestione dell'applicazione avviene solo a swipe ovviamente ho fatto una chat di prova prima di fare il video per capire bene cosa farvi vedere ma c'è comunque una procedura guidata che vi spiegherà passo passo come funziona comunque in basso c'è la riga per l'inserimento del testo riga per l'inserimento del testo che però ha una doppia funzione si può utilizzare sia per inviare un messaggio testuale sia per inviare allegati o per dare il via alle telefonate per cambiare il menu si fa uno swipe verso destra oppure uno swipe verso sinistra e si ritorna all'inserimento del testo eccola qui questa è Wire l'interfaccia è veramente molto semplice forse anche fin troppo l'applicazione permette di inviare messaggi testuali allegati foto video e inoltre è pienamente compatibile con YouTube e SoundCloud quindi si può inviare un allegato anche inviando il link che sarà visualizzato direttamente nell'applicazione una cosa abbastanza interessante di quest'app è la funzione di ping cosa vuol dire? non so se ricordate i vecchi trilli in MSN con il ping praticamente io invio il ping e chi lo riceve riceve una specie di buzz una specie di vibrazione quasi come se fosse uno squillo diciamo così inoltre si può ovviamente inviare una fotografia da fare con la fotocamera anteriore o posteriore o dare via a una chiamata audio chiamata audio che devo ammettere di ottima qualità la qualità dell'audio con Wire è veramente buona l'invio delle immagini avviene con le dimensioni originali quindi non vengono assolutamente ridimensionate come succede in Whatsapp ad esempio questo è il mio faccione che ho fotografato con l'HTC Deserai ecco perché il selfie è di ottima qualità direi sempre con la gestione degli swipe con lo swipe dal basso verso l'alto scusatemi si può accedere ad un menu nel quale ci sono tutte le informazioni dell'utente adesso io ho creato questo account di prova quindi non c'è nessuna informazione perché non l'ho inserita di fatto detto questo ragazzi questo è quanto questa è Wire, un'applicazione che per ora sinceramente non riesco tanto a comprendere e non riesco a capire perché tantissimi utenti che sono già su Whatsapp, Telegram debbano iniziare ad utilizzare questa applicazione se non per l'interfaccia grafica veramente ottima e per la qualità dell'audio in chiamata praticamente perfetto prima di concludervi vi faccio vedere velocemente anche l'interfaccia dell'applicazione per Mac perché se in iOS andrò dell'interfaccia praticamente identica in Mac cambia leggermente ed eccoci qua velocemente su Mac questa è l'interfaccia di Wire per Mac ammetto di essere un fan di questa interfaccia perché mi piace veramente molto è possibile scegliere il colore con il quale personalizzare la propria applicazione io direi di andare su un bel rosso detto questo, come funziona? questa è la schermata principale sulla sinistra c'è una colonna colonna che ovviamente non viene evidenziata tramite l'interfaccia grafica ma vi assicuro che c'è qui saranno elencate tutte le chat con i propri amici per dare via ad una chat o per partecipare a una conversazione bisogna cliccare sul nome di una determinata persona e voilà compare il mio faccione perché? perché prima ovviamente l'ho inviato per fare una prova interessante la visualizzazione delle immagini che come potete vedere vengono visualizzate praticamente senza bordi non male a dire il vero per quanto riguarda invece l'invio degli allegati e l'inserimento del testo ovviamente è presente una riga di testo in basso ai lati della quale sono presenti le icone per inviare un'immagine dare via una telefonata e aggiungere anche altre persone alla conversazione per dar via ai gruppi ragazzi questo è quanto io sono Dario Caliendo come potete vedere è scritto ovunque sono curioso di sapere se voi siete interessati a questa tipologia di applicazione oppure basta perché il mercato in effetti sembra essere veramente saturo e gli utenti sembrano comunque continuare a utilizzare sempre le solite applicazioni ovviamente quella che domina il mercato è Whatsapp anche se ultimamente ci stiamo chiedendo il perché io sono Dario Caliendo di nuovo vi mando un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video di TechFanPage